Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale di essere nuovi Lascia la hashtag MonopolyGo qua sotto nei momenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Allora, sono riuscito a fare un altro po' di dati Grazie a serata spaventosa E oltretutto sono riuscito ad arrivare nel torneo di ieri Mi sembra tredicesima roba del genere Ma dato 350 volanti e un pochino di dati Quindi ho utilizzato un pochino di dadi Più che altro, scusate, un pochino di volanti Sulla casa, questa è la macchinina che ho insieme a Rabi Infatti lei sta a 33.000 E quindi ci siamo quasi Quindi un altro piccolo sport su Rabi e ci arriviamo Quindi tutti i volanti che riuscirò a fare oggi Cominceranno ad andare su Verdiana Perché in pratica è rimasto l'ultimo da completare E speriamo che riesce a salire un pochino di più anche Verdiana Per darmi una piccola zampa Perché se no diventa complicato Abbiamo ancora due giorni e dieci ore Potrei farcela, però vi ricordo che sei giorni sto lavorando Quindi ovviamente ho meno tempo da dedicare Ok? Allora infatti non ho giocato E quindi oggi giochiamo tranquillamente insieme a secco Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato la carta dorata Che c'era ieri con lo scambio d'oro In realtà mi mancava quella grande Che ovviamente non farò tempo a chiedervi Perché scade tra un'ora e qualcosa E il video esce dopo Quindi è un peccato Ho provato a chiederla nel gruppo facebook Quello generico Non l'ho chiesta nel nostro Perché non voglio essere troppo palese Nel chiedere le cose Anche perché se no è un po' esagerato Allora intanto ringraziamo Quelli che hanno partecipato alla cassa community Che come al solito non ci dà soddisfazioni La cassa community Ok? Andiamoci a prendere i regali del negozio Che come al solito non ci fa vedere più Il pallino in alto a destra E ce l'andiamo a perdere Ho fatto l'ultima cosa dei login giornalieri Ho 40 volantini Sono sempre comodi I volantini qua ci servono come loro Ok? Abbiamo ripeto Magia d'oro Vai con rock Che sfortunatamente non riuscirò a prendere La città eterna Che non so neanche se me l'avete chiesto Se me l'avete chiesto magari in tempo No, non faccio manco in tempo 21 minuti Quindi neanche riesco a regalarla Va bene Allora Cronologie classifiche Siamo tutti nella stessa situazione Inizierei ad andare avanti Anche perché c'è il torneo Intruglio da strega Che potrebbe darmi sto benedetto scudo Che non riesco a prendere Non ci riuscirò Penso in tempo Perché devo starci appresso E non posso farlo Visto che sto lavorando E oggi vado a lavorare lo stesso Alle due e mezza Quindi vuol dire che Quando uscirà questo video Io non potrò manco vedere Voi che lo state guardando Peccato Allora Andiamo a vedere immediatamente Dove siamo Prima di tutto Ok siamo su una stazione Quindi da stazione a stazione Non ci riusciamo Puntiamo immediatamente Al fatto che abbiamo la Dai Ma che me lo fai apposta Ah Vi farò vedere oggi Un account Che sarò fatto per me Da uno di voi Proprio per darmi una zampa E vediamo pure Se è stato ripavato Perché potrebbe essere Utile per salire Velocemente Nei tornei Serata Spaventosa Diciamo Non è da tenere Troppo da conto Perché ormai siamo Agli ultimi Step E non ci sono Abbastanza dati Dai però Il gioco mi sta trollando Ha cominciato eh Ha cominciato ragazzi Ha deciso così E mo' incomincia Intanto salutiamo Questo povero Orazio Non so se sei dei miei Ti saluto ugualmente Penso che sei italiano Ovviamente Orazio Ok Vediamo un po' Si è sbloccato Siamo quindicesimi Sbloccato con lo zero totale Vabbè 8000 4000 Questi sono entrati di nuovo Con il per mille Ma come hanno fatto Ma non c'è il per mille attivo Raga ma come fanno A fare 4000 8000 senza per mille attivo Ma c'hanno il per mille fisso Gli fuffaroli col per mille fisso Quelli E' cattiveria questa però eh Guarda se mo' faccio un altro Doppio 5 Ma rabbio Dai non è possibile raga E' il terzo doppio 5 Che faccio Ma è pazzia È pazzia raga È pazzia Il gioco si è svegliato male oggi Ciao Paolino Lo salutiamo Bello lo scudo E' quello lo scudo Lo scudo fantasmino E' stupendo Lo voglio adesso Adesso voglio lo scudo fantasmino Guarda se mi fai un altro doppio 5 Mi incavo Oh alleluia E' cavolo Comunque ho notato Facendo un po' di test di gioco Che il modo migliore che ho io Non è 7 ma è 8 Ho notato che ieri Mi sono capitati Un'infinità di 8 Il 6 non capita mai Però visto che stiamo In video Non si sa mai Forse è il caso di tirarlo Conoscendo Quanto mi può trollare il gioco Ok Facciamo che la nostra soglia del drop È 50.000 Come sempre Ovviamente Sempre giocati In una maniera Ordinata Qui la costruzione Come al solito Non facciamola Ok Ultimo step Qua ci da 80 volanti Che sono sempre buoni Una bustinina Una stella E lì ci dovrebbe dare Quella 3 stelle Vediamo un po' se ci arriviamo Ci arriviamo Vai così Zodiaco cinese Doppione Che non ce ne famo niente Va benissimo così Allora 3, 6, 7, 8 Potrebbe essere un'ottima posizione Vediamo un po' se mi capita L'8 Dai No dai Ma che è sto tiro Vabbè 100 volanti Che sono buoni per l'evento Dai Non mi posso lamentare 3, 6, 7, 8 Di nuovo 4 e 5 Ma Gioco Che dobbiamo fare Oh io Guarda Guarda se oggi Non mi ritiro Mandando a quel paese Il gioco eh Gli 8 non me l'ha fatta È riuscito a farmi un 2 È riuscito a farmi un 2 Su rapina Cattiveria Proprio cattiveria Io la chiamo cattiveria Il gioco non può trattarmi così 5, 6, 7 Tristezza Guarda Ma se mi fai un 3 Ma è pazzia Regà È pazzia questa Oggi è pazzi No Gioca per 50 fisso Regà No Non c'ha senso Mi dispiace Ma gioca per 50 fisso oggi No Per 50 fisso E basta Fine Dai Doppio 5 Ma che sta Succede Allora Intanto Vi faccio vedere Un account Che qualcuno Ha fatto Con la mia Immagine profilo Per farlo Attaccare So anche Chi è stato Attacca Guardate Distruggimi Con scritto Attacca Ma Vi pare la Fantasia 0 Eh Però vabbè C'è l'immagine mia Con scritto Distruggimi Oh madonna È devastato Ma questo è giaco Mi sa comunque Questo è giaco Dall'immagine Ok 200 200 Almeno Vediamo un po' Dove andiamo a parare Ok 45 dati 50 volanti E bustinina Ricordiamo che adesso Tutte le cose che devo mandare Vanno verso Verdiana Perché Rabi sta messa a posto Deve solo arrivare All'ultimo pezzettino E poi ci siamo Ok Ovviamente I tiri brutti Vabbè Chi capitano a me Vabbè I volanti Olè Giustamente Punti storti Vai così Altro per 50 Tattico Altri volanti 3 e 3 6 Stazione No io oggi gioco Per 50 e basta Non c'ha senso Giocare A meno Regà Allora Questo sta devastato Quanto ci scommettete Che c'ha l'armor Non c'ha l'armor Va bene Mi è andata di lusso Molto di lusso Devo dire Ok Quindi vuol dire Che potrei pure Non attaccare lina Ma questi stanno tutti Col per me Che sta succedendo Non mi dica C'è il per mille Porca zozza No di me che non c'è Nel torneo Il per mille Stanno troppo salendo De corsa Fammi vedere Finammo su bustine C'ho una paura Che ci sia un per mille Da gestire Regà E potrebbe essere Un grosso problema Vediamo un po' E non posso Fare tre col per 50 Ok Volanti 200 rotti 5 1 6 Stazione Stazione Altra distruzione Vediamo un po' Se ci capita qualcuno Da iper distruggere No andiamo Su attacca Oppure su lena Ok L'hanno chiamato Attacca Questo è stato Omar Red O Giacomo Forse me l'hanno pure scritto Adesso non mi ricordo Perché ho una memoria Da panico Ieri sono andato Andato a dormire Tardissimo E Devo anche Sbrigarmi E registrare Perché poi Devo andare Al lavoro Madonna Che vita Difficile A parte Gli scherzi Però Un po' stancante Queste giornate Anche perché adesso Ci stanno I festività di Halloween Quindi anche il parco È più attivo E è stancante Starci appresso Ok Vai così 4 e 4 8 Altri bellissimi volanti Che vanno poi A essere utilizzati Per Bellana Vediamo Tasse tristissime 5 6 7 Stazione 5 6 7 Stazione La pina La pina per noi Facciamo un po' Un po' di punticini Per il torneo Ovviamente faccio Meno punti Perché siamo a per 50 Però quando ci passo Almeno ci passo Sopra sempre 300 punti 22esimo Ragazzi Stanno andando a palla C'è deve essere Forse un per mille a giro Ok Altri 100 volanti Io sto facendo il torneo Più che altro Per i volanti Perché più volanti Ci ho E più ci riusciamo 175 Bustina Quindi io non vedo Dov'è Che poi nel torneo E' pure buono Perché dai volanti Ok I volanti Sono importanti Fa pure rima Non volevo Ma Adesso la rima Ok Finiamo la nostra Mitica giocata Bell'armor Comunque non stiamo passando Ancora su una prigione Serata spaventosa E' rimasta lì ferma Completamente Stavo con tutti i giri Che abbiamo fatto Siamo un po' Sfortuna Oserei dire Va bene Però non mi puoi fare Tre da stazione Nove No Andiamo a finire Su un altro volante Stiamo arrivando Al millante di volanti Almeno Non è tantissimo Perché comunque Bisogna avere un po' di fortuna Per sfruttare solo un millante Oddio Ho attaccato uno E non dovevo attaccare Uh Potevo andare sul nostro Invece Vabbè C'è andata di lusso 200 A poco dal prossimo premio 5, 6, 7 Imprevisto di nuovo Oh non mi sta a capitare Imprevisto con i dati Comunque Non so se ve ne sei raccorti Una prigione Facci raddoppio Dai Facci raddoppio Facci raddoppio Facci raddoppio Vabbè Raddoppio una Mi sembra un po' triste Però Ok 200 punti Su serata spaventosa Che continua a salire Che poi scade tra 5 ore Quindi non riuscirò Manca a completarla Mannaggia la miseria Davvero Altra stazione Va bene Va bene Così Saliamo un po' più lenti Ma almeno saliamo Allora Vediamo un po' Questo attacca qua Eccolo qui Eh ragazzi Provo fatto apposito Per me Mi hanno creato Rancout apposito Per me Per darmi un po' Di soddisfazione Vincente Così neanche Vi devo Uccidere Allora ragazzi Se volete essere attaccati Me lo dite qua sotto Nei commenti Io vi attacco Facciamo prima Casomai fatevi trovare I più indifesi possibili Quando vi attacco Fate gli scherzi Potrebbe essere comodo per me Comunque è ventesimo Regà Stanno andando a palla Cioè C'è qualcosa che non mi torna C'è qualcosa che non mi cosa Ok proseguiamo i tiri Perché guarda Mi distaffa tutti tristimo Non so se me ne sei d'accordo 5 e 5 Armor Società Vai Una bella station 6 e 6 La miseria Che esagerato Vabbè Serata spaventosa Erenata No Serata spaventosa A 700 Sotto e 50 Prendiamo pure Qualche billion In più Ok 4 5 6 Evitiamo la stazione Con grande odio 5 e 1 6 200 punti Serata spaventosa Prosegue Là c'è una bella bustina Comunque Mi tenta tanto Proseguiamo Tanto la giocata è ancora lunga Vai Stazione col 2 Rapina Rapina in banca Di Nico 37 Vai Andiamoci a prendere 3 anelli Uh Ti ricordo sempre Che le rapine Sono predefinite Quindi non vi preoccupate Se pensate A un risultato Che non doveva esserci No Quel risultato Sarebbe uscito Ugualmente Allora vediamo un po' qua Come siamo conciati Dollari e bustina Sembra che non ci sia Il permillante Quindi io non mi domando E mi chiedo Come fate a stare tutti Là sopra C'è 12.000 8.000 Non c'è il permille Non c'è Non c'è Se non c'è Come fate Insegnatemi Insegnatemi Voi Che siete più esperti Di me Oppure siete Fuffaroli Ok Andiamoci I punticini Tanti bei soldini Che poi andiamo a sprecare Per scendere di livello Perché abbiamo capito Che stare troppo alti di livello Non mi fa vincere i tornei Quindi a questo punto Visto che il top Non lo possiamo raggiungere Per ovvie motivazioni Di instabilità del gioco Che non permette Effettivamente Di stare in alto Conviene droppare Quindi penso che piano piano Farò costruzioni E anche se mi fanno droppa Andrà tutto a mio vantaggio Per i tornei Allora Stiamo prendendo punti Su serata spaventosa Senza Motivo Motivo Che abbiamo fatto Dei doppi 5 Che sono andati a mio vantaggio Siamo seri? Da non credere Questa cosa Volanti 6 e 2 7 Eh oh Serata spaventosa Sta proseguendo Involontariamente Ragazzi Ok Volanti Tanti bei volanti Eh però sto calando Parecchio di dati Questa è una Cosa pericolosa Siamo al 59.590 Già Eh Si scende Stazione Vediamo un po' Un'altra bella distruzione Su attaccami Ok Cambio avversario Andiamo un po' Atta Eccolo Chiama Attacca Fatta proprio apposta Ma l'hanno fatto proprio apposta Permesso E bravi Tanto dopo Riandiamo da lina Perché attacca Sta a morire Ok 200 Andiamo un po' Altro regalino Che robina era Una bustina No 150 volanti Molto buoni Dobbiamo sperare In un bel 10.000 Per forza Per forza Ok Un doppio 5 E stazione Oggi è la giornata Dei doppi 5 Oggi ragazzi È la giornata Dei doppi 5 Cioè ci sta Per più Landus Alla grande Ma proprio tanto Poi Ok E si prosegue La nostra scalata Vale Quindicesimo Molto basso Ma so sempre Buoni Ok Proseguiamo Il nostro Giro Così magari Prendiamo pure La bustina Di serata Spaventosa Ok Andiamo Oh Altra station Altra station Per noi Ok Vediamo un po' Se riusciamo Andare su Attacca Che non so Quanti ne mancano Sinceramente Forse Due casette Due attacchi Possibili Ah no Pure il centrale Quindi abbiamo Un'altra di 5 6 attacchi Fattibili Su questo Account Va bene 200 Vale Ci avviciniamo Al prossimo premio Che è 275 Dati Niente di eccezionale Con tutti quelli Che abbiamo speso Fino ad ora Ok Bustina importante Ragazzi Ci sono dei dati Buoni Allora Bustina triste La carta ha preso E forse qualcuno di voi Mai ha chiesto doppione ieri Chissà se me la chiesta pure oggi Qualcuno Poi controlliamo Volanti Volanti del tabellun Doppio 6 Mi pare un po' eccessivo Sinceramente Se devo dirla tutta Ok Proseguiamo il giro 516 Stazione Oh Che sta di bene Con le stazioni Forse me la dovevo giocare Per cento No forse era troppo Forse era veramente troppo E' meglio giocare Molto più safe Del solito Che poi non è safe È Tabile più che safe Perché è tutta per 50 Ok Vai 200 e passa dati Quindi sono Un po' di tiri Recuperati Vai così Ok Volanti Qualcuno mi regala Una carta Ecco un'altra carta Adorata Grazie appresso Mi avete regalato Miliardi di ricetta eterna Che non ci posso fare niente Potevo regalarla a qualcuno Al massimo Se facevo in tempo Ma non faccio in tempo Ok Vediamo un po' 3 4 5 Vuoto totale Stazione E niente E niente Oggi è la giornata Delle stazioni Vai così Salutiamo Domenico Però andiamo Dal nostro attacca Che ancora mancano attacchi Mi sa che vi ho stordito Le orecchie Con un piccolo colpo Al microfono Potrebbe essere successo Questo Ok Oh Ah ce l'ha fatta A trovarmi Eh che diavi Al mio Alter ego Distruttivo Distruggimi Comunque Veramente Pessima la cosa Di scriverci Distruggimi Potevi fare l'immagine In negativo Ok 200 Siamo un po' Premi intermedio Che roba era Un'altra bustina 3 stelle Stavolta Va bene Doppioni Per lo scambio Delle cassaforti Che può essere Sempre utile 5 6 7 Siamo un po' Tristi Ok 200 punti Siamo per prendere Pure qualche dado Per rallentare La nostra caduta Di dati Ok 200 Eh vabbè Però questa è È palesemente Molto Specifica Quasi predisposta Ok 1170 Dai che un po' Di dati da tirare Addosso a A A A verdiana Ce l'abbiamo Per dare una Grossa zampa Spero che nel pomeriggio Anzi nella sera Quando ritorno Mari c'è un po' Di tempo per giocare Così recupero un po' 700 dati Dai così Dai che si continua A tirare Che piace Ok 6 e 3 Forse andiamo sul volante Va bene 6 e 4 Andiamo sul nulla totale Te pare 3.000 e 2 3.000 e 2 So tanti Eh Sai che quella Non la facciamo Di serenata Spaventosa Di serata Spaventosa Perché dico Serenata Ma che ci sta Bene uguale Come cosa Come evento Una serenata Spaventosa Una serenata Però non so Se sei una dei miei Se sei una dei miei Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Riusciremo ad azzerare Ad attaccare Oppure l'account Che mi hanno fatto Apposito Tutto gentili Vai così 200 Beh Non troppo lontani Dal prossimo premio Va bene Lisciamo tutto Perché te pare Ma abbiamo giocato Tanto bene Ma devo lisciare Oh Stazione secca Quanto ci piace Attaccare Ma non Noi stessi Ok In effetti Sto attaccando Me in versione Cattiva Va In realtà Potevo anche Attaccare L'account Quello che abbiamo fatto Per le live Anzi Non so manco Se ci sta ancora Perché Non ci entro Da parecchio Cioè là saremo Rimasti Non indietro Indietrissimo Ok 200 Anche perché Quello non lo posso Giocare come questo Non ho la stessa capacità Gli stessi Tempi 200 volanti E siamo a 1500 Rotti Niente male Potrei dire Vai Qua bisogna accumulare Più volanti possibili Per riuscire a fare 40.000 Ma più di 40.000 Perché Verdiana Non pensa Arriver a 40.000 Non ce la fa Mi sa Dovrei fa Eh Forse 60.000 Almeno Verdiana Accelera Ti prego Verdiana Non ci fa Rimanere appiedati Verdiana Ti prego Almeno che Le so 20.000 Punti Spero che stai Aspettando Da usarli Tutti Verso la fine Magari Che può essere Stanno giocatori Che fanno così Io non lo posso fare Per questioni Di Giustamente Contenuti Del canale Ma Avrei fatto Anch'io In questa maniera Così da vedere Pure gli altri Come si comportano Ok Imprevisti Stazione Una bella Rapaina E a noi ci piace Ole Tre Banconote Ovviamente Te pare che Mi danno sempre Tre anelli Sarebbe un miracolo Allora Siamo vicino Al nostro limite Siamo vicini Ipoteticamente Anche a un Traguardo buono Di volanti Da utilizzare Oggi Ok Siamo molto vicini Ai 50.000 Come Massimo Drop Che possiamo fare Ovviamente Quei soldi Dell'evento Sono un grande Spreco Quindi spero Di passare Su più stazioni Possibili I soldi Li utilizzeremo Come vi ho detto Perché mi conviene A questo punto Effettivamente Droppare Di classifica Per avere Qualche possibilità In più Di non andare A finire In tornei Esosi Almeno di andare In tornei Leggermente Più stabili Visto magari Il livello Più basso Ok Distruzione Ovviamente Andiamo sempre Dal nostro Alter ego In grande Tranquillità Olè Io poi Escrivo con Accisola È fantastico Proprio Dislessico A palla Ho capito Che mi sono Andato a dormire Tardi Ma insomma Insomma Ho quasi Spianato Ho quasi Spianato Il buon Distruggimi Il buon Attacca Come te chiami Ok Vai Regalino Regalino Intermedio Che cos'è Dollari Ma ci stanno Altri volanti Sopra sto torneo Regà Questi sono ancora Dollari Doppio dollari Una pressa All'altro Mi pare un po' Eccessivo No Sono andato Leggermente Vabbè Impreviste Raccolta Stop Facciamo la costruzione Vai Così almeno Facciamo qualche Casetta Perché pure le casette Sono importanti E facciamo un minimo Di drop Penso che sia Uno di quei pochi Che vuole droppare Per non stare Al pari Con quelli giganti Allora 1722 volanti Rabi sta messo bene Quindi messa bene Dovrebbe finire Entro oggi Andiamo a fare un bel tiro Per 10 Su Verdiana Che andiamo a cercare Di apparare un po' La situazione Quindi penso che Oggi Domani E dopo domani Andranno tutti Su Verdiana Per completare Perché così Magari Portiamo a casa Oh giro gratuito Niente mele Partner No partner Maffanbeccolo Gioco Mi prendi in giro Gioco maledetto Non mi prendere in giro Ok un bel 3000 Ci sta Niente mele E poi stiamo giocando Sì con 200 A per 10 Ok Vai Prendiamoci L'altra scatolina Un 800 200 no però Dai Dammi un bel 10.000 secco Dai Almeno Alziamo Il post in gioco Veramente Alla grande Ok Intanto c'è Dai Regalino Che c'è qualche Dato dentro 250 dati Quindi diciamo Un pochino Soffrime La nostra perdita Di dati 10k 10k Sì Sì Risparmiamo Risparmiamo Dei volanti Sì Vai Altro 10k Fai pazzia No è Che avrebbe un miracolo Però dai Già 20k Ci stiamo Eh Già le 10k Non ci credo Dopo 10 Ho già 30k Olè Dai così Verdià Che ce la famo Verdià Ti devi impegnare un pochino De più Poco poco Io tanto Ho quasi già 40k Quindi magari tra oggi e domani Ce la faccio E magari Ah mi è cambiato il premio Regà Mi è cambiato il premio L'altra volta mi avete detto Io c'avevo il premio diverso Invece mo c'ho Minimo una che mi manca Guardate Minimo una nuova 5000 e cose Quindi pure a me è tornato Alla normalità Probabilmente era un bug Dell'inizio Avevano fatto qualche errore Ci può stare È comunque un gioco Ragazzi Intanto andiamo a prendere I dati che c'è da ziu Salutiamo a ziu Ok Allora la situazione è questa Quindicesimo Sono tutti altissimi Io vorrei sapere Come Come fate Buffoni Vabbè comunque Diciamo che Potrei anche classificarmi Perché questo è 8000 Io sto a 5000 Diciamo che con un po' di impegno Potrei pure arrivarci Eh Sinceramente Ehm Va bene Allora Album 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 185 su 198 Stiamo andando Alla grande Bene E così Allora Per avere le carte Regalo da me Come sempre Nome In gioco Dovete dirmi il vostro nome Così vi riconosco Poi Assolutamente Eh Le vostre immagini profilo Dettagliata Se l'avete Se l'avete Poi Assolutamente Ragazzi Mi dovete mettere L'amicizia Quindi Il link in descrizione Serve per aggiungermi agli amici Ovviamente Se avete il bug Che non vi vedo E Magari ve lo scrivo Nei commenti Toglietemi Riaggiungetemi Agli amici Che magari Si rimette a posto Ad alcuni È successo E quindi Nelle prossime volte Magari avete la possibilità Che vi ripesco Ok Questa è la situazione attuale Ragazzi Mi sto avvicinando parecchio A completare Per la seconda volta Anche se la vedo un po' difficile E vado a dare le carte Se c'ho qualcosa da dare La prima carta di oggi Va a giococi E andiamo a dargli Questa carta Che gli serve Che è Regalo di classe Ettore mi fa Una lista di carte E la carta Che vi andiamo a dare È la prima che leggo Del 7-18 L'ora dello spettacolo Ragazzi Fanne buon uso Mi raccomando Vai Tutta tua A che ti va La carta Che ho trovato Oggi In video Che è Preso del 7-20 Quindi fanne buon uso Ketty Speriamo che ti fa Completare qualche set E niente ragazzi Oggi ho dato tutte le carte Potevo dare Tutti gli altri Che mi hanno chiesto O non avevo la carta Quindi sicuramente Andrete a leggere Molto volentieri A vedere questo video Se avevo quella carta O meno E alcuni invece Mi hanno chiesto Delle carte Ma non li avevo Come amici Per il bug Oppure Per situazioni diverse Tipo che non avevo Proprio il doppione Della carta E mi hanno chiesto Perché Ugualmente In questo periodo È più difficile Fare carte Perché non si riesce A salire più Di tabelloni A livelli alti Per questo Vorrei fare Un po' di drop Sperando di Riuscire A cavarmela Un po' meglio Speriamo Questa è la puntata Di oggi ragazzi A Monopoly Go Se non ho riuscito Quasi a completare L'evento Devo solo dare Una grande zampa A Verdiana Scegli se dovrebbe Riuscire In un paio di giorni E nove ore Arriviamo in like Condividere video Iscrivetevi al canale Se non vi lasciate La città Monopoly Go Qua sotto i momenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo Nel prossimo video